Ieri c'è stata la presentazione dell'esperimento Cuoreo, un esperimento importante all'interno dei laboratori del Gran Sasso, da parte del presidente dell'INFN. C'è stata così la rassicurazione rispetto all'esperimento SOX, di cui si è tanto dibattuto, i laboratori sarebbero a prova di bomba atomica. Una dichiarazione priva di senze, in parte perché non stiamo ragionando di esplosioni nucleari, peraltro anche in quel caso non resisterebbe il contenitore di tungsten in cui è inserita questa sorgente radiattiva per le temperature altissime che verrebbero raggiunte. Quindi una dichiarazione non fondata neanche scientificamente. Il problema lì è il rischio sismico, i laboratori sono a fortissimo rischio sismico, addirittura una faglia passa dentro i laboratori e in caso di fortissimo terremoto, come è avvenuto sul vettore, dove addirittura c'è stato lo spostamento, la formazione di un gradino fra i due lembi della faglia, ecco lì non ci sarebbe proprio nessun ingegnere che potrebbe risolvere questo problema, ci avverrebbe un incidente molto molto grave. Poi c'è il fattore umano, i laboratori già hanno perso più volte sostanze chimiche pericolose, addirittura nell'acquedotto. Ecco, già solo questo per noi la storia è maestra di vite, anzi la ricerca dovrebbe prendere atto dei fatti già avvenuti. Quella sorgente radioattiva ha una potenzialità emissiva uguale a quella andata in mare a Fukushima, però nell'oceano Pacifico, con un fattore di riduzione mostruoso. Noi abbiamo l'Adriato, i nostri piccoli fiumi, ecco in caso di incidente, praticamente due terzi dell'Abruzzo perderebbe immediatamente l'acqua per molto tempo, probabilmente gran parte del territorio dovrebbe anche essere evacuata. Ecco, scenari di rischio assolutamente inaccettabili, noi siamo per la ricerca, ci sono decine di esperimenti nei laboratori che sono tranquilli, ce ne sono alcuni, un paio, che sono inaccettabili. Quindi invito tutti a partecipare l'11, sabato 11 a Teramo, alle 15.30, a una manifestazione per dire sia alla ricerca, non alle attività pericolose, agli esperimenti pericolosi, ma soprattutto sia alla difesa dell'acqua.